ciao vediamo il mini complesso buon risveglio che ci dà il lifting facciale migliora la circolazione sanguigna linfatica e il colorito della pelle e diminuisce il gonfiore partiamo dall'aponeurose atterisce bene con le dita all'aponeurose e quindi comincia a fare i movimenti circolari su tutta la superficie affinché non sentirai un bel calore anche qui sotto vicino alle tempie e sopra quando hai sentito il calore prendi le ciocche dei capelli e comincia con i movimenti circolari lavorare su tutta la superficie non dobbiamo sentire nessun dolore solo un piacevole massaggio lavoriamo su tutta la superficie tirando su e dietro bene e continuiamo con le nostre orecchie metti le dita a v posiziona un dito davanti un dito dietro e comincia a fare i movimenti in su ripeti 10 e 15 volte attivando i muscoli delle orecchie che ci danno un bel lifting poi metti il pollice l'indice sulle orecchie e massaggio tutto l'orecchio tutti due ripeti cinque sei volte anche qui poi con la parte laterale della mano con i movimenti a sega massaggio tutta la parte posteriore del collo ripeti cinque sei movimenti ora andiamo sulla parte davanti solleva il mento su e con questa questa parte della mano con il movimento a sega lavoro e la zona del doppio mento cancellato ogni abbozzo del secondo mento e poi picchietta leggermente per tonificare andiamo a stimolare la ghiandola del timo che si trova proprio qui al centro del nostro petto bene fallo per 15 20 secondi ora andiamo a picchiettare il viso dal centro verso le periferie da giù verso su non risparmiati picchia picchietta bene bene simulando così la circolazione sangria e nutriendo la nostra pelle attraverso i capillari mi ripeti ancora nella parte centrale del viso e ora andiamo a rilassare i muscoli masticatori che si trovano qui posiziona le mani vicino le orecchie e dobbiamo aprire la bocca lentamente giù spingendo con le mani su allungando i muscoli masticatori ripetiamo cinque sei volte bene ora prendi un terzo tappo del vino più o meno così oppure un tappino e inserisciolo fra le labbra questo permette di rilassare le nostre labbra e farle più voluminose inserisce il tappo solo fra le labbra così mantieni il tappo per almeno un minuto e poi continuare la pratica rilassando la zona glabellare posizione le dita al centro tra le sopracciglia e scivolando con le dita dal centro verso le tempie effetto cinque dieci movimenti concludi la pratica con tre passaggi dal centro verso la metà delle sopracciglia ok e ora andiamo a disegnare e concludere la nostra pratica con il sorriso al sole posizione due dita sopra due dita giù e parti dalle labbra verso le tempie degli zigomi questo modo ci disegniamo un bel sorriso sul nostro viso definiamo i zigomi facendoli più alti e più scolpiti ripeti dai 15 o 20 movimenti con questo abbiamo finito ti auguro una buona giornata